Sono tre gli imputati a cui viene contestato il reato di omicidio colposo per la morte del motociclista Michael Lomartire, vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Sava Marugio l'11 ottobre del 2021. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, Alessandra Romano, ha rinviato a giudizio un dirigente della provincia di Taranto e i due titolari dell'azienda agricola, sul cui terreno crescono gli alberi di pino, le cui radici avrebbero causato il dissesto del manto stradale. Che provocò lo sbandamento e poi la rovinosa caduta del giovane. Tre anni fa, Michael, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore la strada che collega Sava Marugio, perse il controllo del mezzo a causa della deformazione dell'asfalto, dovuto alla presenza di radici andando a sbattere con violenza sul selciato, nonostante indossasse il casco, perdendo la vita. I genitori e le due sorelle del ragazzo, parti civili ammesse nel processo che si aprirà il prossimo 7 ottobre, sono rappresentate dagli avvocati Dario Iaia, Francesco Fischetti e Sandro Matino.